Torna l'appuntamento con il Napoli Comic Con in programma dal 28 aprile al 1 maggio presso la Mostra d'Oltremare di Napoli. La 19esima edizione del Salone Internazionale del Fumetto vede nel prestigioso ruolo di Magister, che negli anni passati è appartenuto a personaggi del calibro di Milo Manara e Silver, Roberto Recchioni, uno tra gli sceneggiatori di punta della Sergio Bonelli Editore e definito la rock star del fumetto italiano. Il programma culturale dell'edizione 2017 del Comic Con è dedicato al rapporto tra fumette web e come ha spiegato lo stesso Recchioni, anche in Italia internet rappresenta il presente e non il futuro del fumetto, soprattutto di quello indipendente. Sempre più autori, infatti, riescono a farsi notare con le opere che pubblicano sui loro blog, per poi approdare a volumi cartacei, spesso di enorme successo come nel caso di Zero Calcare. Quest'anno l'area del Salone si estende per oltre 7.000 metri quadri, con più di 300 stand espositivi, affollati da fan di tutta l'età, appassionati di fumetti, cinema, disegno e animazione. L'affluenza per i quattro giorni di fiera si prevede altissima, con la giornata inaugurale di ieri, che ha fatto registrare già una presenza massiccia di appassionati, e con le giornate di sabato e domenica, per le quali non ci sono più, da giorni, biglietti disponibili, mentre gli abbonamenti per tutto il periodo sono sold out da più di un mese. L'unica giornata che resta accessibile per chi non si fosse mosso in anticipo è lunedì 1 maggio. Grande impegno poi da parte degli organizzatori per evitare il problema del bagarinaggio. I biglietti sono tutti nominativi e per entrare è necessario esibire un documento di riconoscimento.